E' tutto un sistema, Neo. E tutti loro ne fanno parte, anche se non lo sanno. Che poi mi dicono, ma come farai a smettere con 40 sigarette al giorno? Ma sono io che decido di fumarle. Esatto! Si credono in controllo, ma sono loro ad essere controllati. E poi io fumo solo quando esco con gli amici, così. Quando sto a casa da sola mica lo faccio. E tu quando è che stai a casa? Il lunedì. E' un'attività stupida, infantile, come tante altre. Solamente che questa danneggia sia chi la pratica, sia chi non la pratica. Ma alcuni di loro non stanno facendo niente. Fanno parte anche loro del sistema. Certo. Perché finché non saranno completamente consapevoli del problema, sono tutti soggetti a rischio. Neo, mi stai ascoltando? Bloca! Ecco, vedi? Nessuno di loro è in controllo. Basta un niente per caderci dentro. E lo sai bene. Per poco non ci cascavi anche tu. Ti sto offrendo solo la verità. Niente altro. Pillola blu. Tenetore nel mondo che conosci. Probabilmente ti fai trascinare da un amico, inizi a fumare e ti racconti tutte le frottole che vuoi per convincerti che le sigarette non ti fanno niente. Tanto il cancro ai polmoni viene anche non fumatori. Pillola rossa. Esci dal sistema e ti dai una svegliata. Ti informi sui rischi e le conseguenze del fumo. E svegli anche tutti i dormienti che incontrerai per autostrada. La scelta è soltanto tua. E svegli anche tutti i giorni. O che vuoi rischi e le con高i a fermi. Il can burla giura se svegliata. Svegli anche tutti i giorni. Per chi asleep? Grazie a tutti